Le vacanze di Natale sono una gioia, regali, cene, brindisi, ma poi chi ci aiuta a rendere in noi è la casa di nuovo presentabili? Acqua e sapone, a tutto il necessario, per te e per la tua casa. Per un momento di benessere, prova le piacevoli essenze dei bagno doccia felce azzurra da 650 ml, in offerta 2,19 euro. Anche le docce felce azzurra sono in promozione, il sapone liquido è 1,19 euro. E solo d'acqua e sapone, con due prodotti felce azzurra, di cui un bagno, in omaggio un deo da 50 ml. Scopri la linea L'Oreal Paris e il Viv Bon Repair, shampoo e balsamo, sono a 4,29 euro, mentre il pre-shampoo e il siero senza risciacquo sono a 6,99 euro ciascuno. E solo d'acqua e sapone, con due prodotti, il Vivi non mangio un kit di tre campioncini L'Oreal Paris. E per capelli più sani e più forti c'è la linea Vitamine e Forza di Garnier Fructis, shampoo e balsamo, sono a 2,19 euro ciascuno. Con queste offerte incredibili, da acqua e sapone, festa tutto l'anno! Auguri di cuore, acqua e sapone, oltre alla convenienza!